Andiamoci piano adesso, calma, 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 compriamo, tipo, facciamo una cosa, me ne compro tantissime da mille, così a caso, e tra queste da mille, ce ne buttiamo, quanti soldi ho? Una da un milione, ok. Ora ragazzi, io queste le mischio, quindi non ho la più pallida idea di quale sia quella da un milione, perché lo sto cambiando tutte quante. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video del Faction! Qualche giorno fa ho caricato un episodio dove andavamo a giocare al casino, e ragazzi, quell'episodio vi è piaciuto tantissimo, è incredibile come quell'episodio sia arrivato a più di 5.000 mi piace, e mi sono anche arrivati tantissimi commenti di gente che probabilmente non mi conosce bene ancora, che mi ha chiamato stupido o scemo, perché ho dato via letteralmente tutti i soldi, li ho scommessi tutti quanti, no, i diamanti non li devo buttare, li ho scommessi tutti quanti, nonostante avessi vinto più di 5.000.000, avessi più di 5.000.000 in banca. E molti mi hanno detto, ma sei stupido, dovevi fermarti prima, per quale motivo non ti sei fermato? Ragazzi, il gioco è proprio questo, se non altro, per il video, io devo fare queste cose, devo farvi vedere che vado super gigantesco, non mi posso di certo fermare alla prima vincita, quindi ragazzi non vi preoccupate, ovviamente non sono diventato povero dopo aver perso quei 5.000.000, perché adesso, come potete ben vedere, abbiamo la bellezza di 3.118.000 dollari da parte. Li ho messi da parte proprio per fare un altro video nel casino, visto che tanta gente mi ha detto, ti prego Kendall, portare un altro, è stato sta divertente vederti giocare in quel modo, ti mette l'adrenalina e anche tantissima ansia, perché non sai mai se vincerai o se perderai, quindi questo video è bellissimo, ti prego, fanne un altro. Quindi ragazzi, ho messo da parte i soldi, lasciate adesso un mi piace, l'avete lasciato bene, e adesso andiamo nel casino. Ragazzi, ovviamente, come ho già detto nel primo episodio, non giocate assolutamente di azzardo nella vita reale, questo è un videogioco, sono soldi falsi, quindi lo potete fare, e anche lui sembrerebbe che stia giocando, Nisse 27A, stai vincendo? Hmm, non lo so. Allora, iniziamo ragazzi con quelle da 10.000, ne compriamo tantissime da 10.000, perché tanto chi se ne frega, anzi, così così mi svuoterei un attimo tutto l'inventario e mi terrei soltanto queste pozionecine, che ve ne pare? Ovviamente, dicevo, non giocate assolutamente di azzardo nella vita reale, neanche con i grattevinci, non ne vale la pena, perché perdete sempre i soldi. E vediamo quanti soldi abbiamo speso, niente ragazzi, abbiamo speso 100.000 dollari in pozioni, da 10.000, la prima fallita, la seconda fallita, oh mio Dio, la terza, ok, vinto, vinto, bene, non male, vinto, bene, continuiamo, fallita, ora vinciamo, vinciamo? No, fallita di nuovo, ora falliamo di nuovo, e poi tutte le altre le vinciamo, sicuro ragazzi, io riesco, no, perso, ok, non riesco a predire proprio niente, perso di nuovo, oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio, dai, no eh, ok, almeno questa l'abbiamo vinta e questa l'abbiamo persa, quindi ragazzi, abbiamo letteralmente perso 40 o 50.000 dollari all'incirca, però questo era soltanto per riscaldarci ragazzi, ci stavamo riscaldando con le poziongine piccoline, iniziamo adesso a prendere quelle da 50.000, ora si ragiona ragazzi, un'intera hotbar di pozioni da 50.000, quanti soldi sono andati via? Oh mio Dio, sono andati via 400.000 dollari ragazzi, la prima è andata persa, dai, 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 un po' di fortuna, un po' più, oh mio Dio, l'altra è andata persa pure questa, oh mio Dio, no, no, che sta succedendo, no, ma, 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 ma non è possibile che le sto perdendo tu, no, e dai, no però eh, oh mio Dio, ok, beh, eh, mi consolo, diciamo, persa, e questa, persa, ragazzi, non ho mai avuto così tanta sfortuna in vita mia, ho vinto solo 100.000 dollari, e ne ho spesi 500.000, ok, va bene, tu, ti credi più forte di me? Ti credi più furbo di me? Allora sai cosa? Uno, due, tre, quattro e cinque, e adesso sono altri 500.000 dollari in pozioni da 100.000, ho cinque possibilità ragazzi, prima, vinta, bene, 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 iniziamo bene ragazzi, adesso sì che stiamo ragionando, seconda, persa, no, no, non stiamo più ragionando bene eh, no, no, non stiamo più ragionando bene, no, dai, ma perché? Ok, vinto, ok, quindi abbiamo perso soltanto 100.000 dollari, perché ne abbiamo guadagnati, ne abbiamo spesi 500.000, ne abbiamo guadagnati 400.000, non male, non male, facciamo una cosa, me ne compro altre due da 100.000, se queste due le fallisco entrambe, vado per due grosse da 500.000 ragazzi, lo so, l'ho detto, l'ho detto, ok, questa l'ho vinta, e questa, e questa l'ho persa, vediamo quanti soldi ho, no, no, non dices, quanti soldi ho, ho 2.600.000, volendo lo potrei fare, me ne potrei comprare tranquillamente una da un milione, o due da 500.000, che dite ragazzi, lo faccio? Lo faccio? Ci provo? Ok, dai, ci provo, perché sono sicuro che tutti nei commenti vi starete dicendo di sì, oh mio dio, allora, aspettiamoci qua che magari porta fortuna questo blocco, dea bendata, ti supplico, li voglio questi soldi, allora, 3, 2, 1, chiudo gli occhi, ho perso, no, 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 500.000 se ne sono andati, no, 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 ok, 3, 2, 1, doi, 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 vinta, ok, un milione l'abbiamo vinto, quindi abbiamo recuperato i soldi che abbiamo spesi, e come faccio a risalire lì, aspettate. Ok, quindi abbiamo ancora 2.600.000 ragazzi, in quanto abbiamo speso soltanto, tipo 600.000 abbiamo perso, sì, abbiamo perso 600.000 dollari all'incirca, quindi continuiamo un pochettino, non vi preoccupate che non appena inizio a perdere tanto, 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 tipo adesso, ci vado giù pesante ragazzi, ci vado giù pesante e mi compro quelle da un milione. Mi conoscete ragazzi, io non sono un tipo che ci va piano nelle cose, ecco, ne ho perse tante, ne ho perse tante, no, non devo andare di nuovo nel casino, ne ho perse tante, ho perso ragazzi 400.000 dollari appena appena, lo faccio, lo faccio, guarda che lo faccio, eh, perché mi stai dicendo no? Io lo faccio, ok, lo faccio, va bene, tu mi stavi dicendo no? Sì, parlo proprio con te Francesco, mi stavi dicendo no, non lo fare, invece adesso lo faccio, la bevo, 3, 2, 1, sì, abbiamo vinto 2 milioni di dollari, sì, 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 ragazzi, lo sapevo, io sono il migliore, so come funziona l'economia e so come funzionano queste cose, le scommesse, ne ho perse troppo di fila ragazzi e quindi sapevo che avrei vinto da quello, perfetto, e adesso siamo tornati a 3.200.000, il che significa che abbiamo fatto addirittura più soldi di quanti ne avevamo prima, ora queste tre probabilmente le fallirò tutte quante, vediamo, fallita, fallita, è fallita, infatti immaginavo, e adesso partiamo con una da 500.000, dai, 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 sì, 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 abbiamo vinto un altro milione ragazzi, oh mio dio, siamo a 3.400.000 dollari, ok, andiamoci piano adesso, calma, 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 compriamo, tipo, facciamo una cosa, me ne compro tantissime da mille, così a caso, e tra queste da mille, ce ne buttiamo, quanti soldi ho? Una da un milione, ok, ora ragazzi, io queste le mischio, quindi non ho la più pallida idea di quale sia quella da un milione, perché lo sto cambiando tutte quante, non ho più guardato qual è quella da un milione e qual è quella, quali sono quelle da mille, quindi ora è veramente adrenalinica la cosa, perché potrei aprire, potrei bere una pozione da un milione, oppure delle pozioni da mille, non so dove si trova quella da un milione, speriamo che la fortuna sia dalla mia parte, 3, 2, 1, questa qual era? Oh mio dio, ho visto, ho visto due milioni per un secondo, invece no, abbiamo vinto duemila, abbiamo vinto duemila, va bene, abbiamo rivinto altri duemila, apriamo questa così a caso, e abbiamo vinto altri duemila, no, stiamo vincendo troppo, non va bene, stiamo vincendo, questa è stata persa, dai 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 dai, duemila di nuovo, no, stiamo vincendo troppo da quelle da duemila, mi sa ragazzi che ho già bevuto quella da un milione ed è andata persa, mi sa che l'ho persa, sì, ho perso quella da un milione, no, no ragazzi, guardate, due milioni e quattrocentomila, no, ho bevuto quella da un milione e non lo sapevo nemmeno e l'abbiamo persa, rischio tutto per tutto, uno, due, tre, ok, tre da cinquecentomila, adesso abbiamo soltanto novecentomila dollari da parte, uno, no, due, no, tre, no, abbiamo perso, le abbiamo perse tutte e tre, ok ragazzi, la fortuna sembrerebbe che oggi non sia dalla mia parte, quindi uno, persa, la mette per Eva, due, vinta, bene, 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 non ce la mettiamo, bene, 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 vinta anche questa, bene, bene, benissimo, benissimo, intanto ci siamo rifatti di tutti i soldi che abbiamo speso e è persa, quindi abbiamo semplicemente rifatto i soldi che abbiamo speso, basta, mi sono stancato, cinquecentomila e centomila, mi bevo quella da centomila prima, che ovviamente vince, io volevo che fallisse, io volevo che fallisse, perché adesso ragazzi c'è un problema grosso, ora, visto che ho appena vinto adesso, in questo esatto momento, non vincerò mai quella da cinquecentomila, scommettete, e invece ho vinto, sì, un milione, e poi, e poi, e poi, e poi, ragazzi, si torna in pista, si torna in pista con un milione e duecentomila dollari, sì, 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 devo averle tutte fallite, prima di comprare quella da un milione, eh, eh, ho detto che voglio fallirle e tu me le fai vincere, e quando voglio vincere perché me le fai fallire, dai, su, forza, un po' di fortuna, un po' di, ho vinto, ma porca miseria, ma no, ma basta, voglio, voglio, ehi, voglio per, capisci l'italiano, voglio, quelle da ventimila, non me ne faccio niente, le voglio perdere, io voglio vincere quelle da un milione, quanti soldi abbiamo adesso? Un milione e duecentotrentamila, persa bene, persa bene, dai, perdiamo pure questo, perdiamo pure questo, vinta, ah, ma allora non capisci, voglio perdere, così mi arriva la sfortuna addosso a me, poi compro quelle da un milione e vinco perché ho più fortuna, vediamo se questa la perdo, persa bene, dai, è vinta, ma no, allora, ti devo fare un corso accelerato di italiano, io voglio che queste due siano perdenti, capito? Sì, lo prometti? Bene, quanti soldi abbiamo? Novecentomila, ragazzi, nemmeno lo possiamo comprare il milione adesso, se perdiamo queste due, quindi no, queste due ora devono essere vincenti, capito? Ecco, bene, mi ha fatto vincere, mi ha fatto vincere, adesso c'ho un milione e trecentomila, so già, ragazzi, che sarà un errore, lo so già, non c'è bisogno che mi chiamate stupido nei commenti, non ce n'è bisogno, ma adesso abbiamo l'ultima pozione di un milione, dopodiché ci restano centotrentamila dollari, ragazzi, lo so già che mi starete chiamando stupido nei commenti, non c'è bisogno che lo fate, la bevo, senza guardare la chat, sono in F1, tre, due, uno, cos'è successo? Abbiamo vinto o abbiamo perso? Abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, no, c'ho centomila soltanto adesso, ok, beviamoci l'ultimo da centomila, sperando che sia perdente, così me ne vado, no, basta, ho detto, devo perdere, devo perdere, perdenti, tutti perdenti, per favore, anche questa perdente, eh no, abbiamo vinto, va bene, ragazzi, allora, piuttosto che uscirmene da qua dentro, con zero soldi assolutamente, direi di uscire adesso, perché ci dobbiamo fermare a un certo punto, non è un problema per chi mi chiederà, ma ora come fai, non hai più i soldi, ragazzi, ma state scherzando, non ho più i soldi, cioè, ma io non so se vi rendete conto di quanti spawner c'ho adesso qua che posso vendere, ma tranquilli, i soldi ce l'ho, in più dopo piazzeremo anche un Iron Golem spawner nella fazione che farmerà un casino di soldi in continuazione, quindi ragazzi, io spero vi sia piaciuto questo video, ovviamente, lasciate un mi piace e condividetelo con tutti i vostri amici, perché non si vedono tutti i giorni dei pazzi come me, che vanno a buttare 3 milioni di dollari al casino, lasciate un bel mi piace, seguitemi su Instagram se volete, seguitemi su Twitter, da Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.